Bene ragazzi, questa è l'ultima tecnica che ci permette di risolvere gli integrali, visti quest'anno, e praticamente cerca di risolvere la gran parte di quelli che sono gli integrali con un polinomio a numeratore e un polinomio a denominatore. Se sopra e sotto non ci sono dei polinomi con le potenze intere, allora questo metodo non si può fare, a meno di fare una sostituzione, per esempio se c'è una radice di x uno fa una sostituzione e a quel punto si ottiene solo dei polinomi con la x con le potenze intere e si può andare avanti. Allora, come abbiamo visto ragazzi, già un po' di questi qualcuno riusciamo già a farlo, non c'è bisogno di fare tutto questo procedimento. Ad esempio se noi dobbiamo semplicemente, non lo so, integrare, queste sono le statistiche che noi faremo, se noi dobbiamo ad esempio integrare uno fratto x meno uno, è logico che, visto che quello sopra la derivata di quello sotto, il risultato è l'ln di x meno uno più c. Quindi se io devo integrare x fratto x meno uno, mi faccio una divisione di polinomi veloce e poi alla fine ottengo qualcosa che sarà un logaritmo e una costante integrata che fa una x. Quindi qualche polinomio molto semplice lo sappiamo fare, ok? Ma tutti quelli che vi mostro qui a sinistra, adesso non li sapete fare. Oggi infatti facciamo solo esercizi, cerchiamo di cogliere un po' tutti i casi di questa tabella, o comunque quelli che poi avrete nella verifica, perché poi ovviamente se ne sono ancora di più complessi, ma non ne vale la pena, ecco. L'importante è che sapete fare quelli base. Quindi da cosa si parte ragazzi? Da un numeratore e da un denominatore. Ovviamente se il grado del numeratore è maggior o uguale al grado del denominatore, si fa la divisione di polinomi. Sempre, ok? E in questo modo il nuovo numeratore, che noi otterremo, ovviamente non sarà più n grande, ha grado più basso sicuramente del denominatore, perché abbiamo il quoziente e poi un resto, e nel resto, diciamo, ci sarà il numeratore finalmente con un grado più piccolo del denominatore. A questo punto si può cominciare. Quindi, ad esempio, se io devo fare questo esercizio qua, qui il grado sopra è 0, il grado sotto è 2, posso già fare la tabella. Invece qui dovrò fare la divisione dei polinomi. Qui va bene. Vediamo se ci sono altri esercizi in cui devo fare la divisione dei polinomi. Che ho fatto qui? No. No. Quindi, ad esempio, solo in questi qui devo fare, anzi, forse in questo esercizio soltanto in questo qua, dovrò fare la divisione dei polinomi per ottenere poi un numeratore con un grado più basso del denominatore. Altrimenti vado subito con lo step successivo. È una cosa molto semplice, ragazzi. Allora, l'idea qual è? Che a questo punto il denominatore lo devo fattorizzare, lo devo scomporre in fattori, in quelle che io chiamo cellule, nel senso di cose che sono indivisibili, che non sono più scomponibili. Quindi mi riduco, di solito, al primo grado o al secondo grado se il delta è maggiore di 0, scompongo in x1, x2. Se il delta è uguale a 0, se invece il delta è minore di 0, mi rimane una cosa di secondo grado. Quindi, comunque, vabbè, quella è la cellula minima e me la tengo. A questo punto, devo fare una cosa strana che adesso per voi non sarà assolutamente chiara, ma poi quando vi farò vedere l'esercizio per voi sarà molto semplice. Cioè, adesso che io ho scomposto questo denominatore in tanti fattori, faccio quello che io ho chiamato, non è assolutamente il modo matematico in cui si chiama, ma faccio un atto di fede. Cosa significa atto di fede? che, dico, questo n diviso d lo faccio diventare, ok? Una somma di tanti piccoli termini, ok? Facilmente integrabili. E, ad esempio, se io, a denominatore, guardiamo la prima colonna, ho un denominatore che è x-x1, questo mi andrà a creare, creando l'atto di fede che poi vediamo cosa significa, una piccola cellula facilmente integrabile che si chiama A grande fratto x-x1. Allora, cosa significa, ragazzi, questa cosa? che io, a grande, non so quanto fa, ok? Ma lo troverò alla fine dell'esercizio. So che adesso non è chiaro, ma facciamo un esempio subito e lo capiremo. A questo punto, però, avendo scritto, diciamo, il mio integrale difficile, avendolo scomposto in tante piccole cellule con l'atto di fede, una quantità che fa A fratto x-x1, dove io non so quanto vale A, però, ragazzi, è facilmente integrabile, perché l'integrale di A fratto x-x1 è A ln di x-x1, ok? Quindi, riesco facilmente ad integrarlo. Vi ripeto, io non so quanto vale A grande. Se, invece, la cellula minima è un x-x1 alla seconda, purtroppo, nell'atto di fede, io devo creare due cellule, ok? Che contemplano il grado 1 e che contemplano il grado 2. Praticamente, è una sorta di divide e timpera. Cioè, io non so bene quanto fa A e B, scompongo la mia funzione integrande in due cellule, facilmente integrabili, ok? È come se spostassi il problema. A questo punto, diventa facile integrare, ma difficile trovare A e B. Sposto il problema un po' più in là, l'ho procrastino. Solo che adesso, avendolo scomposto così, la parte blu è facilmente integrabile, perché è un logaritmo, e la parte verde è facilmente integrabile, perché è una potenza, no? x meno x1 alla meno 2, ok? Che quindi diventa meno B fratto x meno x1, ok? A patto di non sapere quanto vale A e B. Vi faccio subito un esempio, così è più chiaro. se io, ad esempio, devo fare un integrale, come ad esempio, andiamo in uno molto facile, come il primo, ok? Io, adesso, ragazzi, ho un denominatore da scomporre, quindi la prima cosa che faccio cos'è? Non devo fare la divisione di polinomi, e quindi faccio 1 fratto x più 2 per x meno 2. Non sono ulteriormente divisibili, ok? E quindi adesso io faccio l'atto di fede, cioè dico, questa quantità, e lo chiamo proprio AF, atto di fede, questa quantità, io la vedo come composta da due microcellule, una che è A diviso x più 2, più B diviso x meno 2. Ci sarà un certo valore di A e di B, per cui questa cosa qui è uguale a questa cosa qua. Ma adesso io me ne frego altamente, dico, esisteranno, va bene, ok? E, vedete, ho fatto un atto di fede, quindi ho sperato che si potesse scrivere così, perché se si può scrivere così, allora è facilmente integrabile. E infatti, l'atto di fede è lo step 2. Il 3 è, avendo fatto l'atto di fede, diventa facilissimo integrare le microcellule, ok? E infatti potete vedere che se ho x meno x1, diventa un logaritmo, x meno x1 alla seconda, ho due microcellule che vado a creare. Se ho x meno x1 alla terza, ho tre microcellule, vedete, con le potenze, il blu, praticamente x meno x1 sotto alla 1, poi alla 2, e alla 3. Cioè bisogna farle tutte e tre, purtroppo. Integrati è molto facile, perché, vabbè, il primo è il logaritmo, l'altro due sono le potenze con l'esponente negativo, ok? Se avessi x meno x1 alla decima, dovrei creare A, B, C, D, E, F, G, H, I, ok? Devo creare praticamente dieci lettere, perché è grado 10, non ve lo darò mai. Già in grado 3, lo guarderemo oggi, ma sarà... Ok? Quindi io sposto il problema da non saper integrare al saper integrare molto facilmente, però non so quanto vale A, B, C e non lo so ancora. Comunque io già integro, ok? Ultimo, ok? Quindi se avete delle microcellule fatte così, va bene. A questo punto, ragazzi, questo esercizio è molto facile, perché se questo è lo step 2, io adesso qui faccio lo step 3. Cos'è lo step 3? È integrare. Vabbè, integrare è molto facile, perché l'integrare di questo è, ovviamente qui c'è il dx, è A ln di x più 2 più B ln di x meno 2, ma ovvio, bravo furbo, ho spostato il problema, più una certa costante. La costante qui, ragazzi, la chiamo K, ma per non far casino, perché magari C potrebbe sembrare una delle lettere da trovare, quindi non voglio far casino, la chiamo K, così K minuscolo e siamo a posto. Ma ovviamente il risultato adesso, ragazzi, non è finito, perché se noi guardiamo, perché ovviamente adesso noi, prima o poi, dovremmo trovare quanto vale A e B, ho spostato il problema fino alla fine, ma ce la devo fare. E come si fa? Eh, allora guardiamo, ragazzi, lo step 4, non guardiamo l'ultima rega che è un po' più complessa. Comunque, lo step 4 cosa dice? Adesso sono in grado di trovare le lettere A, B e C. Questa cosa la faccio generando un sistema in cui le incognite saranno A, B e C, ovviamente, ma dopo aver integrato, ok? Io ho già integrato, mi manca trovare A e B, riscrivendo il passaggio dell'atto di fede, cioè nel momento in cui ho fatto l'atto di fede, ho detto che succede qualcosa, ok? Leggiamo e poi lo facciamo come esercizio, bisogna rifare il minimo comune denominatore, bisogna raccogliere le potenze in ordine ed eguagliare 1 a 1 i coefficienti delle potenze della X, creando un sistema, ok, con i coefficienti. Detto così è molto difficile, ma adesso vi faccio vedere. Cioè adesso che io devo solo trovare A e B, ritorno indietro nell'atto di fede e dico, il mio atto di fede era fare questa cosa qua, X più 2 per X meno 2, io nell'atto di fede ho detto che vale A fratto X più 2 più B per X meno 2. Vedete, gli integrali non ci sono più, io ho già integrato, devo solo trovare A e B. E allora cosa faccio? Seguiamo lo schema. Riscrivo il passaggio dell'atto di fede rifacendo il minimo comune denominatore, ovviamente a destra, perché vedete che a destra devo rifare il minimo comune denominatore, che ovviamente dovrà venire uguale di qua e di là, solo che a sinistra ho uno. Di qui cosa c'ho? A che moltiplica X meno 2 più B che moltiplica X più 2. Vediamo se qualcuno ha già capito un po' dove vado a parare. Ok? Adesso cosa devo fare? Leggiamo gli step. Raccolgo le potenze in ordine. Cosa vuol dire raccogliere le potenze in ordine? Qui non lo tocco, ma vedo che a destra i denominatori sono uguali, quindi uno potrebbe già toglierli, nel senso che essendo uguali il discorso sarà solo numeratore. Raccogliendo la X cosa vuol dire? Ok? Vabbè, questa cosa verrà AX meno 2A più BX più 2B. Raccolgo le potenze, quindi X che raccoglie A più B più un termine noto che fa 2B meno 2A. Ok? Raccolgo le potenze X alla 1, ok? E adesso ho praticamente finito, perché andiamo a vedere cosa dico, eguagliando uno a uno gli n coefficienti delle potenze della X. Cosa vuol dire ragazzi? Che sopra, vedete, io ovviamente ho due coefficienti A e B, quindi devo creare un sistema a due righe, perché avrò due potenze della X, X alla 1 e X alla 0. Infatti, non guardando praticamente neanche più il denominatore perché è uguale, cosa ottengo ragazzi? Che 1 lo si può scrivere come 0 volte X più 1 uguale a X che moltiplica A più B più 2B meno 2A. Devo trovare A e B. Allora, vedete una cosa, che il coefficiente che moltiplica la X qui è 0 e qua è A più B. Il termine noto qui è 1 e qui è 2B meno A. Quindi, diciamo, l'atto di fede funziona se ovviamente il coefficiente della X è uguale sia di qua che di là, quindi A più B viene 0 e se X alla 0, no? Questo termine qui è uguale. È proprio un gioco da ragazzi ragazzi di lato di fede ma si fa dopo aver integrato altrimenti viene un casino. Quindi, basta saper risolvere un sistemino che si impari in seconda liceo. Ad esempio, A vale meno B sotto al posto di A scrivo sempre meno B quindi cosa diventa? 2B meno 2 per meno B quindi più 2B uguale a 1 ok? Quindi trovo che B fa un quarto e che A fa meno un quarto. A questo punto ho finito. Ho trovato A e B e cosa faccio? vado a sostituire diciamo nel momento in cui ho integrato vedete qui ci ricordiamo che B vale un quarto e ci ricordiamo che A vale meno un quarto. Quindi grazie all'atto di fede ho potuto integrare riprendendo l'atto di fede trovo i valori di A e di B. Chiudo ragazzi perché facciamo soltanto esercizi fatti così quindi vedete che non è difficile. Nel caso in cui una cellula minima abbia delta minore di zero state attenti qua perché è importante cosa devo fare? Allora se è minore di zero il delta significa che un denominatore con A x alla seconda più B x più C è completamente non scomponibile. Quindi sicuramente ci saranno visto che è di secondo grado ci sarà una parte fattibile con diciamo il logaritmo che è la parte viola nel senso che nell'atto di fede dico ci sarà un preciso valore di A e di B per cui io posso scrivere una parte viola dove sopra ho la derivata di quello sotto così viene vedete a destra un logaritmo e invece un certo valore di B per qui sopra soltanto 1 quindi proprio in micro o le cellule adatte per essere facilmente integrabili quindi sposto il problema nel trovare poi in modo un po' più difficile A e B così in questo modo la parte viola integrata proprio lo che ero ad hoc è il logaritmo e la parte nera l'abbiamo visto nei video precedenti è una cosa che abbiamo già visto e la riprendiamo perché l'integrale di 1 fratto a x alla seconda più B x più C è proprio questa formula qui che comunque potete tenere davanti quindi non è un grande problema quindi riassumendo e finisco il video ragazzi il problema non è integrare è rilevare le celle creare con l'atto di fede le celle giuste integrare cellule molto facili si riprende l'atto di fede per trovare i vari coefficienti quindi il problema più difficile ragazzi qui è risolvere un sistema ad n coefficienti A B C domande ovviamente poi faremo solo esercizio adesso quindi ditemi però se ci sono domande che c'è qualcosa che non è chiaro poi sotto ragazzi poi questo documento ve lo lascio c'è anche un esercizio più difficile in cui vi mostro tutti i passaggi ok poi gli step sono tutti uguali ditemi ci sono domande ragazzi altrimenti facciamo esercizi cioè l'atto di fede consiste nel provare a scarivare l'integrale una volta ridotta ai minimi termini come una sorta di somma sì sì con una somma di tanti cosini piccolini ognuno dei quali è fatto come nella seconda colonna quindi io non so quante cellule vado a creare dipende come ha fatto il mio denominatore ok ognuno crea la sua piccola cella fatta così ok quindi più ne ho più ne ho più il sistema diventa ciccione diventa difficile risolverlo c'è proprio il sistema A B C D però ovviamente noi fino a non supereremo i tre coefficienti ecco ma adesso facendo esercizi capirete un po' come svilupparlo un po' Grazie a tutti.